E ora la ripartenza dello sport di base dopo la pandemia. Stefania Cappa. Lo sport sociale riparte. Dopo un anno di chiusura, tutte le attività sono di nuovo in campo. Come ha detto il presidente Draghi, il valore sociale dello sport e l'importanza dello sport di base entra a pieno titolo nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi uno sguardo lungo, un'attenzione oltre l'emergenza. È quello di cui lo sport ha bisogno. A partecipare tanti ragazzi e genitori che dopo un anno di pandemia hanno toccato con mano quanto sia importante la condivisione. Un passaggio importante che ridà finalmente la speranza di riprendere gli allenamenti, di rifare una vita per i ragazzi normale. Insomma, lo sport secondo me è un diritto. È importante che si possa riprendere l'attività il più possibile in una maniera più completa. Sono veramente contento che sono tornato a giocare con tutti gli altri in squadra. Perché prima erano individuali e adesso siamo in squadra e siamo molto contenti, tutti quanti. Finalmente le nostre ragazze tornano a solcare la pista con il nostro pattinaggio artistico. Per me è fondamentale averle qui in pista perché hanno bisogno di tornare alla normalità. E hanno soprattutto bisogno di stare all'aria aperta e di poter fare quello che amano. Quindi il pattinaggio artistico a rotelle. Grazie. 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 Grazie.